Can we get a car at the north east corner of Maine and Danforth? Stiamo andando a prendere il mio socio Riccardo con una C adesso direzione Linate e poi lo portiamo a mangiare A dopo A dopo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passa un po' così, si entra dentro e poi su il cibo. Dura. Ma si fa più piccola domani, perché piove. Tanta pioggia, Tanni. In mexico cosa fai? Atleta e business man. Ah sì, negozio nella ferramenta. E un po' di lavoro, di entrinamento in casa. Quando hai iniziato a correre? Jovene, 16-17 anni. E un po' di lavoro. E un po' di lavoro. E' stato fermo quasi un anno, è la mia seconda gara di questo anno e credo che non stava in forma al 100%. E adesso chi vai a trovare in Valle d'Aosta? Ai miei amici, Bruno, Gianna, tanti amici. Il ricordo che hai più bello degli italiani che hanno corso con te? Sì, tanti ricordi. Mi ricordo la prima volta nel anno 98, nel Sky Marathon di Cervinia. È una gara difficilissima. Io non c'era la seconda volta che correva nella neve, tanta neve che è lunga la corsa. Dopo aver arrivato il secondo, io credo che è stato un grande ricordo per me. e dopo la gente, il tifo, impressionante della prima volta in Europa. Un saluto a Stefano Mottini. Grande Stefano Mottini. Ho visto, è un grande director di gara e credo che ha un grande prestigio e deve continuare come director di gara perché io credo che se non sta lui, va a faltare molto per la gara. Se non è un grande prestigio e non è un grande prestigio e non è un grande prestigio.